posizione della piramide con estensione delle gambe allungare bene le braccia assumere la posizione della piramide mantenendo i piedi vicini ed espirando iniziamo sollevando la gamba destra tenere qualche secondo abbassare la gamba sistemare la posizione quindi ripetere alzando la gamba sinistra ancora piramide e poi la gamba destra ripetiamo almeno tre volte per ogni gamba con l'esercizio possiamo aumentare il numero delle ripetizioni quando la gamba in alto le braccia continuano a spingere indietro destra tirare bene dal tallone sinistra anche qui sensazione di trazione dal tallone quindi pieghiamo le ginocchia e ci riportiamo nella posizione della foglia grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti